Si allunga la serie di episodi di incidenti stradali causati dai cinghiali. Se ne contano a decine negli ultimi mesi. Tantissimi nell'entroterra e in particolare nel territorio urbinate, ma sempre più frequenti pure nelle colline peseresi. Sia sul San Bartolo, dove la popolazione degli ungulati si è moltiplicata in maniera importante, sia sull'ardizio, dove a moltiplicarsi sono anche le segnalazioni di avvistamenti o collisioni a ridosso degli abitati più collinari. All'alba di sabato l'incidente è invece avvenuto addirittura a poche decine di metri dal mare, dal colle che sconfina sulla statale adriatica fino a Fosso Segliore. Il malcapitato è un quarantenne pesarese alla guida che non ha potuto evitare l'impatto, ha ucciso un cinghiale e semidistrutto la macchina. Sabato mattina erano le 5.40 sulla Nazionale, tra Pesaro e Fano, l'altezza del Gazebo, e mi sono visto improvvisamente attraversare la strada, credo ne ho contati 3 o 4 tutti, dei cinghiali, solo che me li sono ritrovati davanti alla macchina, non ho potuto fare niente e sono andato purtroppo contro un cinghiale. Io fortunatamente non mi sono fatto niente, il problema è che poteva succedere qualcosa di peggio, insomma, anche se magari avevo l'illuminazione di evitarlo, magari potevo andare nell'altra corsia, passavo una macchina e sarebbe successo molto di peggio, insomma. Il fatto è che scendendo dalla macchina ho notato che la strada è completamente buia, invece ci sono i lampioni ma erano tutti spenti e questo mi fa dire che magari con un'illuminazione che secondo me in quella strada è necessaria, è assolutamente necessaria perché è una strada nazionale, con un'illuminazione adeguata, magari potrei averli visti e magari evitare l'incidente. L'episodio raccontato da Angelè anche attraverso Facebook ha aperto un dibattito social sulla corretta illuminazione di un tratto stradale che di fatto unisce Pesaro a Fano. Quanto ai danni materiali esiste invece uno specifico protocollo di indennizi della regione Marche per gli incidenti causati dalla fauna selvatica. Risarcimenti comunque parziale che non riportano in vita l'animale né salvaguardano l'incolumità di chi è la guida della macchina o ancora peggio di una moto o di una bicicletta.